Albania ha arrestato Ilir Mehta, ex presidente e premier alla guida del Partito della Libertà all'opposizione, tra le accuse, corruzione e riciclaggio di denaro. Via al vertice dei paesi BRICS in Russia, presenti più di 20 capi di Stato e il segretario generale dell'ONU, Antonio Kuterres. L'ingresso nella NATO è l'unica via per la sicurezza dell'Ucraina. Così il ministro della difesa lituano a Euronews. Giovedì l'intervista completa. Dubbi sugli abdi d'impatrio nei paesi extra-UE per i migranti si temono gravi violazioni dei diritti umani. Corruzione e riciclaggio di denaro e mancata dichiarazione dei beni. Sono queste le accuse con le quali è stato arrestato lunedì a Tirana Ilir Mehta, ex presidente e primo ministro dell'Albania, alla guida del Partito della Libertà all'opposizione. L'avvocato di Mehta ha respinto tutte le accuse. Mehta, 55 anni, ha ricoperto le massime cariche dello Stato. Il politico è stato oggetto di diverse indagini da parte dell'autorità anticorruzione, la più recente relativa ai suoi affari finanziari, inclusa un'attività di lobbying negli Stati Uniti. Secondo le indiscrizioni pubblicate dai medi albanesi lunedì, Mehta è stato arrestato su ordine della struttura speciale anticorruzione nell'ambito di un'indagine in corso sul suo patrimonio. Sotto inchiesta anche l'ex moglie e deputata Monica Criemadi. Lunedì sera il governo italiano ha approvato un decreto legge che contiene una lista aggiornata dei paesi di origine cosiddetti sicuri per le persone migranti. L'intento è quello di superare gli ostacoli giuridici sovranazionali all'utilizzo dei centri costruiti in Albania, ma non è detto che un decreto legge sia sufficiente. Venerdì, infatti, il Tribunale di Roma ha costretto l'esecutivo a riportare in Italia i migranti appena trasferiti a Jader, basandosi su una recente sentenza della Corte di Giustizia europea. I leader di India, Sudafrica e Cina sono arrivati nella città russa di Kazan per il vertice BRICS che sarà ospitato dal presidente russo Vladimir Putin. Il cinese Xi Jinping, l'indiano Narendra Modi e il sudaficano Cyril Ramaphosa sono stati accolti da una guardia d'onore e da piatti colmi di specialità russe quando sono atterrati all'aeroporto di Kazan. Dopo aver riportato una ferita alla testa nella sua abitazione, il presidente brasiliano Lula da Silva ha invece annullato il viaggio, ma parteciperà in collegamento video. Ai paesi BRICS originari, Brasile, Russia, India e Cina, si aggiungono i nuovi arrivati, Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita che si sono uniti all'alleanza a gennaio. Al vertice parteciperà anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, una decisione criticata dal Ministero degli Esteri ucraino alla luce dell'invasione russa in Ucraina. Si prevede che il vertice sarà un grande successo per la Russia, con 32 paesi che hanno confermato la loro partecipazione e più di 20 capi di Stato presenti. Questo sfida le previsioni, secondo cui la guerra in Ucraina e un mandato di arresto internazionale avrebbero trasformato Vladimir Putin in un paria. La Lituania ritiene che l'unico modo per garantire un futuro all'Ucraina sia quello di invitarla nella Nato. Il Ministro della Difesa, Lorianas Kashunas, ha appoggiato questo punto del piano per la vittoria presentato dal Presidente Zelensky, nonostante diversi tra leader dell'UE e alleati della Nato siano riluttanti a formulare un invito ufficiale. Lituania sempre supporta l'Ucraina dell'invitazione alla Nato. Perché, in nostro capito, non possiamo mandare un messaggio alla Russia che hanno almeno un'informale potere sull'envitazione alla Nato. È il più grande errore. L'Ucraina, che combina per la sua independenza, ma anche per la nostra sicurezza, deserves, you know, determination, right? Which organisation, which community to choose for the future, for their children, for, you know, for the generations. So, that's why invitation is not membership. But it's a point of no return. It's irreversibility. So, I think we can do this move. At least invitation. I mean, there's more than just hesitancy around this invitation to Nato for Ukraine. Because what they were given was this, quote, indestructible bridge towards membership, but not an invitation. The United States is not too keen. And countries like Slovakia and Hungary are actively hostile to that. Yeah, just wordings about irreversibility, bridges, sorry, is not working. We need actions. If we will not make actions, you know, I remember the story before the full-scale war. In 2017, 2018, after Crimea and after Donbass. And we heard a lot of voices from our friends. Look, if you will give weapons to Ukraine, it will escalate. It will provoke. And we gave not enough for them. And you see what happened. Doing nothing is escalatory. Thinking what you, you know, your support to Ukraine can escalate the situation. It's a mistake. L'intervista completa di You Hope Conversation sarà disponibile giovedì alle 19.45. in relation to long-range weapons. Almeno 13 raid aerei sono stati lanciati dall'aeronautica israeliana tra lunedì sera e le prime ore del mattino di martedì contro il bastione di Hezbollah nel sud di Beirut, dopo che l'esercito israeliano ha accusato le milizie file iraniane di aver nascosto mezzo miliardo di dollari in manconote e oro in un bunker sotto l'ospedale Al-Sahel nel soborgo meridionale di Daieh. Non è stato specificato se tutto il denaro sia stato distrutto nell'attacco. Hezbollah's financial network is based on two main sources of income. Money from the Iranian regime and money from the Lebanese people. Iran's Quds forces transfer money to Hezbollah from Iranian oil sold in Syria. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut and then directly it goes to Hezbollah. In un altro attacco israeliano nei pressi dell'ospedale universitario Rafiq a Riri di Beirut, considerata la più grande struttura sanitaria pubblica del paese, il bilancio dei morti, aggiornato martedì dal Ministero della Salute, è di 4 persone e 32 feriti. La zona presa di mira non rientrava tra quelle interessate dall'ordine di evacuazione precedentemente emesso dai militari israeliani. L'idea di esternalizzare la detenzione dei migranti al di fuori dell'Unione Europea sta guadagnando terreno nel dibattito politico. Il principio di questi centri di rimpatrio, sostenuto da una decina di Stati membri, è stato discusso la scorsa settimana al vertice europeo. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato il progetto come uno dei modi innovativi per affrontare le questioni legate alla migrazione. Von der Leyen ammette però di non avere tutte le risposte. La discussione di rimpatrio riguarda un gruppo di rimpatrio riguarda un gruppo di rimpatrio che non hanno il right di stare nella Unione Europea. In questo contesto i rimpatrio riguardi sono discusate. Ci sono questioni abitanti. Per quanto tempo le persone possono essere là? Quali si fanno, per esempio, se un rimpatrio non è possibile? Quindi, come ho detto, non è triviale. Ma questo è un tema che è discusato. La proposta sta suscitando polemiche tra gli Stati membri, con la Spagna, che non ha fatto mistero della sua opposizione. Alcuni analisti ritengono che se c'è la volontà politica di creare questi centri, l'attuazione legale porrà una serie di problemi. dei centri in i paesi è semplice perché ci sono dei centri di detenzione. Perché delle barriere legale, praticiche e tecniche, le persone non possono essere senti per le buoni ragazze per i paesi dei paesi di rimpatrio di rimpatrio come si potrebbe entail profondi rimpatrio di rimpatrio di rimpatrio di rimpatrio e di contrarre le garantie constitucionali che tutti devono avere accesso a la justizia e avere il caso individuo. Le ONG che si occupano di diritti umani stanno lanciando l'allarme. Ritengono che le conseguenze saranno dolorose per i richiedenti asilo. Every time we've seen this kind of scheme in practice, we've seen prolonged arbitrary detention, we've seen people separated from their families, we've seen people in an unbearable legal limbo, children and other groups in vulnerable situations falling between the cracks, we've seen people at risk of being sent back to danger and to persecution and we've seen people being denied the right to asylum with all of the legal safeguards that is required at the EU. La Presidente della Commissione afferma di voler trarre insegnamento dall'accordo firmato nel 2023 tra Italia e Albania. L'accordo in questione prevede che gli uomini adulti intercettati dalla Guardia Costiera italiana vengano inviati nel paese balcanico, ma non appena è stato attuato la scorsa settimana il protocollo era già in difficoltà, con i tribunali italiani che nel fine settimana hanno deciso di invalidare il trasferimento dei primi 12 migranti. L'uragano Oscar ha causato almeno sei morti nel comune di San Antonio del Sur a Guantanamo nella parte orientale di Cuba. Più di mille le case colpite e diverse migliaia di persone costrette ad evacuare. L'isola intanto è ancora senza luce tornata solo a Lavana dove copre il 90% dei suoi 2 milioni di abitanti. Il governo di Cuba ha annunciato che agirà rigorosamente contro chi tenterà di provocare disordini per le strade dell'isola. La risposta è alle numerose proteste organizzate negli ultimi giorni da parte della popolazione estremata dal blackout causato dal collasso totale del sistema elettrico nazionale lo scorso venerdì.